Benvenuti su Gossip TV 24. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. Dopo approfonditi esami di controllo, possiamo con gioia annunciare che Giorgia Meloni è stata dichiarata in ottime condizioni di salute, dissipando così le preoccupazioni iniziali. I risultati degli esami hanno tranquillizzato gli specialisti riguardo al suo stato fisico. Tuttavia, i medici le hanno consigliato di evitare situazioni stressanti e le hanno imposto di non arrabbiarsi per questioni politiche nei prossimi giorni. Si ritiene che un ambiente tranquillo favorisca una pronta guarigione. Pertanto, è stata raccomandata a Giorgia Meloni di dedicare del tempo al relax e al riposo, mirando a garantire un recupero ottimale e a ridurre qualsiasi pressione aggiuntiva sulla sua salute. È indubbio che anche la sua vita privata abbia contribuito a un forte stress, con i media che l'hanno messa sotto pressione. I sostenitori e i leader politici augurano a Giorgia Meloni una pronta e completa guarigione, nel rispetto delle indicazioni mediche. E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille.